no no bravo uoi torna indietro bravo un po' indietro no no anche sulla macchina un po' un po' un po' un po' un po' un po' uoi 3 Allen avuto indietro chie Magà sự vile bua fin arrivo bu ciao La faccia all'albero! 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 Ma li vai? No, vado via! Ma mi garba! Non ce la posso trovare la strada! No! Vai, vai, vai! Vai, vai! Bravo! E' uno che ha detto, ce la voglio fare, non me ne freddo della macchina! Si è incazzato io! Lì lo specchietto si l'hai portato via tutto! No, è stupido! C'è entrato a biscotti! Quella trovi, tu vieni, vieni! Ma dov'hai ci picchiare nell'albero? L'hai visto? Andiamo via! Si! Oddio, sei tutta succia! Io infatti sono partita da casa già bella e preparata! Poi non c'è mia... Vai la fauna, cara! Non ce la fate voi? A falla! Perché oggi si fa! Eh, picchiate... Spaggare la macchina per proprio tempo! Eh! Non ha senso! Non c'è una macchina per un po' di scorsi! Ma è una jipe... Io ce la ho... Io ce la ho mantenendo! Se una macchina non te ne frega niente? Cioè, uno dice, sono macchine per fare questi percorsi! Si vuole le macchine in rilio? Quelle si! Quelle si! Poi, se lo sa... Quello... Non c'è quello che vuole le macchine in rilio? Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Dai, fammi! Devi stare tutta anche in cielo! Devi stare tutta anche in quadri! Fuatto per stare... Dove no pé! Troppo così c'era... Allora! oh... pesante alunce perché anche stando parecchio l'anno ce la fa però questo è stato più la di rispetto a qua e spetta gli altri ci ha fatto proprio si è venuto giù con quelli sono sono venuti giù e non hanno preso ci sono cambiate le scarpe io ho detto vai su di terza ma lui è come in me a di garbillimitatore capito l'ho visto questo pezzettino guarda va davanti ma deve stare giù che gli ho detto? Francesco gli ho detto questo è di terza la terza la tira bene quella di un altro bene però tecina come è andata comunque oh la X15 ciccio gratta le marce da fa paura eh la X15 gratta le marce da fa paura la mia gratta no no mancando le metti da fermo chissà è un vizio ma te c'hai cuscinetto interno o esterno? interno ma io ho detto come al fare il romaggio fai la quinta fai quinta e poi metti dietro quinta e metti dietro ma c'hai remontato il suo originale o quello modificato? o quello rinforzato marziale? no quello originale quella ancora che c'ha i selettori dal medico fatti glielo ho detto ma qui hai in quelle pappi di terra ma hai adesso affiato a terza affiato la terza è sempre bassa c'è l'acqua te che ha montato eh? che c'hai le colpie moniche o sulle su? ah no eh io c'ho le 40-300 di ridotta mi ci trovo da addio perchè c'eri è terza? ma le ruote girano un po' girano si si lo faccio sulla terza terza? si vede più bene a forza allora anche te l'ottore c'ha un problema no no per l'amor di Dio CR rinforzati se mi assi davanti c'è Dio Gli ha batti 4 punti ma la tua moda in piedà io ero qui per te la terza tu ne ero in cima e lui è più tecnico io di Gli ha detto a centruitezza piena ma scontami ma cazzo secondo me ha limitato la un vento batte io un... 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 E poi c'era tutto da sé qua. E poi c'era tutto da sé qua.